2 milioni di euro di perdite è quanto emerge dal bilancio 2017 di Ecoambiente, società partecipata della provincia di Salerno che gestisce il ciclo rifiuti. Il rendiconto è stato presentato a Palazzo Sant'Agostino dal presidente della provincia Giuseppe Canfora e dal commissario liquidatore di Ecoambiente Vincenzo Petrosino. Un'occasione per fare il punto della situazione e per rendere noti gli obiettivi e le prospettive future della società, a cominciare dall'aumento delle tariffe. Il bilancio ha comportato un risultato di una perdita di 2 milioni di euro e diciamo che l'elemento fondamentale è il mancato adeguamento della tariffa. Basti pensare che l'ultima tariffa approvata per l'attività che viene posta in essere all'impianto di Battipaglia è stata approvata nel 2012, poi del 2013, 2014, 2015 e 2016 nessuna traccia. E' alla fine il mancato adeguamento perché alla fine i costi che la società sostiene, oltre a quello dell'impianto di trattamento dell'indifferenziato, tutti i costi sostenuti delle discariche di Parapoti, Sardone, nei post discariche, ovviamente sono tutti i costi che la società sostiene e che di fatto devono essere commisurate e quindi ribaltati sui 158 comuni che noi serviamo nella provincia di Sarello. Le prospettive, almeno la nostra, quella indicatemi, è quella di cercare di portare di nuovo la società in house, cioè nel senso di rimetterla. Ci sono tutte le condizioni perché, ripeto, se alla fine tu arrendi conto dell'anno, sostieni 100, questo 100 lo devi ripartire, ovviamente per i comuni per i quali tu hai offerto un servizio. Se alla fine, nel corso degli anni, non c'è stato mai un adeguamento della tariffa, in quanto, ovviamente, bilanci non approvati e si continuava ad applicare una tariffa di 140, quando poi alla fine i costi superavano, è ovvio che... Adesso farete questo, ci sarà l'adeguamento della tariffa? È ovvio, sì, stiamo lavorando per adeguare la tariffa rispetto, ovviamente, al rendiconto del 2017 e quindi cerchiamo di, insomma, iniziare un percorso normale.